Bella agenda! No, non mi sono mai chiesto se riesco a far dire bella agenda a Nick Radugna Ma visto che oggi non c'è niente da fare, verifichiamo! Dovrebbe abitare in questa casa qua dove c'è il gatto Ciao Micio! Hai visto Nick? Qui c'è scritto attenti al canno se non c'è il gatto Secondo me regna un po' di confusione Sì? C'è Nick? Nicole, perché? Va bene, grazie Ma anche no Dovrei cantare un regga Come al solito non trovo mai nessuno in casa Proviamo in un altro modo Proviamo a scriverli su Instagram Instagram? Nick Radugna Messaggio? Inviato Nick, considerami Nick! Bella agenda! No, non mi sono mai chiesto se riesco a mandare un bell'agenda Bella agenda, ma visto che non ho niente da fare, verifichiamo! O meglio, ok, facciamolo Barboni! Che è il prossimo? Ciao!